Sì, al Tartini è finita 3-3 tra Parma e Lecce, è stata una partita emozionante, un pareggio tutto sommato giusto, di fronte un buon Lecce, ottimamente messo in campo da Cosmi e che a quanto si è visto almeno oggi non merita l'ultimo posto in classifica, mentre il Parma ha accusato un calo a metà ripresa ed ha concesso due reti su contropiede ai Salentini. Al 31esimo della ripresa l'incontro sul 3-1 per il Lecce sembrava praticamente concluso, ma il Parma ha avuto un sussulto, grande generosità e il Parma è riuscito a pareggiare con Pellè e Galloppa, quest'ultimo il migliore in campo unitamente al centrocampista del Lecce Quadrado.